degli interventi tecnici di miglioramento dello stesso impianto. Prego, Assessore Bacchi. Sì, buongiorno a tutti. Con questo atto che stiamo per approvare in questo Consiglio andiamo a dare la possibilità di migliorare quelle che sono le nostre strutture dell'area sportiva cercando di naturalmente dare una maggiore fruibilità dell'area attraverso la realizzazione, come avete letto dagli atti, di un campo sintetico, di un altro campo in erba e di altri due campi, uno da calciotto e uno da calcetto. Tutto questo serve e servirà alla società, l'ADS Ferentino a organizzare quello che sarà l'azione della parte del Frosinone Calcio che verrà a utilizzare i nostri impianti.